Musica Incidente questa sera poco prima delle 23 all'incrocio tra via Cassiano e via Fiume ad Oglianico. Un 29enne a bordo di un Audi A3TDI ha avuto un malore ed è andato a sbattere contro lo spigolo del muro. A soccorrerlo sono subito accorse alcuni residenti che hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte. Stabilizzato, il giovane è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. Stabilizzato, il giovane è stato trasportato all'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte. Stabilizzato, il giovane è stato trasportato all'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte.